poi tornato in america in africa poi dall'africa le maldive poi diciamo ho fatto il direttore operazioni volo il capo pilota la compagnia della maldive service che era una compagnia molto particolare e quindi dopo di che sono rientrato poi sono andato a dubai che avrei dovuto portare le medicine a un certo gruppo etnico adesso non sto specificare e invece anche lì la cosa è andata poi fallita poi mi sono spostato insomma praticamente ho fatto diversi giri praticamente ho fatto fatto di tutto in africa ho pilotato diversi tipi di c8 più un tipo di un focker perché con quel focker avevo dovuto portare quel focker non mi ricordo dove insomma ci ha portato perché la così perché ci sono stati dei piloti che sono di cui hanno fatto più anche qui dopo dallo zaire no e ancora c'è chi perché qui ci sono ancora gente di mobutu mobutu era un grande che aveva compagnia sua mentre io in africa stavo con l'african air charter african air charter praticamente l'african air charter perché si parla francese cioè si parla francese e la lingua locale e con questa compagnia qui la questa compagnia qui a rimba era in mano a un baluba ora qui quando si dice baluba lo si dice in senso dispregiativo invece baluba non è assolutamente perché è una tribù invece di quelle molto importanti e che c'è la si va a tribù la c'è la tribù e le tribù vicine tribù amiche tribune amiche capito quindi voglio dire se va avanti così e 85 sono andato in africa 80 fine 85 86 sono stata le maldive poi sono tornato in italia poi per sempre per la per diciamo per i padroni delle maldive delle maldive service che dovevo andare a portare aiuti ai palestinesi poi invece per una serie di cose sono stato anche un po ma hanno detto cioè guarda non c'è torna perché sono dolori e sono andato a finire di nuovo in africa in africa l'aereo con cui avrei dovuto volare talmente in condizioni brutte che ho detto o lo riparate o se non meglio che lo secate in due allora per ripararlo avrebbero speso 20 mila dollari che hanno fatto hanno segato in due segato in due allora tu quando vai in africa nessuno è razzista in africa diventi razzista perché no purtroppo no purtroppo per carità io sono molto open minded no la donna mia è fra l'altro diciamo mulatta e nera guarda fa ora tu ti accorgi che loro hanno delle qualità che tu non hai per esempio vedono il buio no oppure sanno dirti se una persona è passata di qua pure no se no no è questo via via com'è che seguiamo becca però per quello che riguarda il ragionamento sequenziale si perdono cioè non hanno il ragionamento sequenziale capito e niente allora se perdono oppure che ti possa raggiungerebbe al tempo era diciamo tutte le macchine andavano senza batteria o quasi no allora tu andavessi taxi io quanto vuoi per andare da Kinshasa all'albergo no quanto vuoi 800 dico ma qui il sedile è giù se no vabbè passi al secondo tu quanto vuoi 400 tu quanto vuoi 200 tu quanto vuoi 100 ma parte da solo la macchina no spinta e vabbè 100 metto davanti no parto e mi accorgo che davanti non c'è il vetro dico fermati se no guarda 50 fai conto no guarda 200 100 100 100 non ti preoccupare vabbè vabbè 100 per dire no allora è così oppure vedi i camion che c'hanno le gomme diverse uno c'ha una gomma grossa uno c'ha una gomma un po' più piccola così un po' più piccola così